La luna piena in acquario illumina il cielo notturno, un faro splendente nel vasto cosmo. Un momento magico, impregnato di energia trasformativa. Un invito a guardarci dentro e accogliere il cambiamento. L'acquario, segno d'aria indipendente e visionario, ci spinge a liberarci dalle catene del passato, a guardare avanti con speranza e a creare il futuro che desideriamo. Questa luna piena è un portale verso nuove possibilità. Ci chiede di mettere in discussione lo status quo, di liberarci da ciò che non ci serve più. È tempo di abbracciare la nostra individualità ed esprimere la nostra verità autentica, senza paura né esitazione. La luna piena è un momento di culmine, l'apice di un ciclo che inizia con la luna nuova. Come uno specchio riflette la luce del sole, illuminando le nostre emozioni e portando alla luce ciò che era nascosto nell'ombra. Ogni fase lunare rappresenta un capitolo nel nostro viaggio evolutivo. Dalla luna nuova, che rappresenta nuovi inizi e pianificazione, alla luna piena, che simboleggia la realizzazione e la chiarezza, ogni fase ci offre l'opportunità di connetterci con la nostra saggezza interiore, di ascoltare la voce del nostro intuito e di allinearci con il flusso naturale dell'universo. La luna nuova. Precedente questa luna piena in acquario è sorta nel segno del leone. Il leone, segno di fuoco passionale e creativo, ci ha invitato a connetterci con il nostro cuore, a esprimere la nostra gioia e a brillare con la nostra luce unica. Ora, con la luna piena in acquario, siamo chiamati a integrare questa energia leonina, a portare la nostra luce individuale nel collettivo, a utilizzare la nostra creatività per creare un futuro migliore per noi stessi e per il mondo che ci circonda. Leone e acquario, sebbene opposti nello zodiaco, sono entrambi segni idealisti e visionari. Il leone, governato dal sole, rappresenta l'espressione individuale, il cuore e la creatività. L'acquario, governato da Urano, il pianeta del cambiamento, rappresenta l'innovazione, la comunità e la mente superiore. Questa luna piena ci invita a trovare un equilibrio tra queste due energie, a esprimere la nostra individualità all'interno di un contesto collettivo, a usare la nostra creatività per servire un bene superiore e a lavorare insieme per creare un futuro più luminoso, proprio come farebbe Leonardo da Vinci con la sua arte e ingegno. L'urlo dell'anima, libertà e trasformazione. La luna piena in acquario è un potente richiamo alla libertà. Libertà dalle restrizioni autoimposte, dalle aspettative sociali e dai condizionamenti del passato. È un momento per liberare la nostra mente, per espandere i nostri orizzonti e per abbracciare nuove possibilità. Questa luna piena ci chiede di essere autentici, di vivere in allineamento con i nostri valori più profondi e di esprimere la nostra verità senza paura di essere giudicati. È un momento per abbracciare il cambiamento, per liberarci dal passato e per creare un futuro che rispecchi chi siamo veramente. I simboli sabiani sono un antico sistema di divinazione che associa un'immagine o un simbolo a ciascun grado dello zodiaco. Per la luna piena in acquario il simbolo sabiano è un pavone che fa la ruota. Questo simbolo parla di bellezza, di espressione di sé e di fiducia. Ci ricorda di abbracciare la nostra unicità, di mostrare al mondo i nostri veri colori e di brillare con la nostra luce individuale. È un invito a celebrare la nostra individualità e a condividere i nostri doni unici con il mondo, proprio come farebbe un artista che espone la sua opera al pubblico. La luna piena in acquario è un momento potente per la riflessione personale. Prenditi del tempo per meditare, per scrivere un diario o semplicemente per stare nella natura, magari come farebbe un moderno Francesco d'Assisi. Ascolta, la voce della tua intuizione. Cosa ti sta sussurrando il tuo cuore? Questa luna piena ti sta chiamando a fare un salto di fede, ad abbracciare il cambiamento e a creare la vita che hai sempre desiderato. Fidati del processo, abbi fede in te stesso e permetti alla magia di accadere. Per i segni di fuoco, ariete, leone e sagittario, questa luna piena in acquario è un momento di grande potenza e trasformazione. Questa luna piena in acquario infonde energia e ispirazione, illuminando il cammino verso nuove avventure e scoperte. È un momento per mettere in moto i vostri progetti creativi, per dare vita a quelle idee che avete tenuto nel cassetto. Per esprimere la vostra individualità in modi nuovi e sorprendenti, mostrando al mondo chi siete veramente. E per connettervi con persone che condividono la vostra visione, creando legami che possono portare a collaborazioni fruttuose. Per i segni di terra, toro, vergine e capricorno, questa luna piena potrebbe portare un po' di scompiglio nelle vostre routine quotidiane. Potrebbe sembrare come un improvviso temporale estivo, che arriva senza preavviso e sconvolge i vostri piani. Ma proprio come un temporale, porta con sé la possibilità di rinfrescare e rinnovare. È un momento per essere aperti al cambiamento, per abbracciare nuove opportunità che potrebbero presentarsi. Per uscire dalla vostra zona di comfort e avventurarvi in territori inesplorati. Esplorare nuove possibilità può portare a scoperte sorprendenti e a una crescita personale significativa. Per i segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario, questa luna piena è un momento di grande ispirazione e creatività. È un momento per connettersi con la vostra comunità, per condividere idee e progetti che possono fare la differenza. Per esprimere le vostre idee innovative che possono portare a cambiamenti positivi e duraturi. E per fare la differenza nel mondo, utilizzando la vostra creatività e il vostro ingegno per migliorare la vita degli altri. Questa luna piena è un'opportunità per tutti i segni di riflettere, crescere e connettersi con le energie cosmiche che ci circondano. Per i segni d'acqua, cancro, scorpione e pesci, questa luna piena potrebbe intensificare le vostre emozioni, come una melodia di puccini che vi tocca nel profondo. È un momento per prendervi cura di voi stessi, per onorare i vostri sentimenti e per cercare il supporto di persone care. Il leone in particolare potrebbe sentire l'energia di questa luna piena in modo più intenso, potrebbe essere un momento di grandi cambiamenti nella vostra vita personale o professionale. Abbracciate il cambiamento, fidatevi del processo e sappiate che siete guidati verso la vostra più alta destinazione. La bilancia potrebbe sentirsi spinta a trovare un equilibrio tra le proprie esigenze e quelle degli altri, proprio come un giocoliere che cerca di mantenere tutte le sfere in aria. Questo segno zodiacale è noto per la sua ricerca di armonia e giustizia e spesso si trova a mediare tra diverse situazioni per mantenere la pace. Ricordate che va bene mettere se stessi al primo posto e che non potete versare da una tazza vuota. Prendersi cura di se stessi è fondamentale per poter essere di supporto agli altri. La meditazione, il riposo e il tempo dedicato alle proprie passioni possono ricaricare le energie e migliorare il benessere generale. Lo scorpione potrebbe sentirsi spinto a lasciar andare il passato e ad abbracciare il cambiamento. Questo segno è noto per la sua intensità emotiva e la capacità di rigenerarsi. Lasciare andare vecchie abitudini o relazioni può aprire la strada a nuove opportunità e crescita personale. Questo potrebbe essere un momento di profonda trasformazione personale come la metamorfosi di una farfalla. La trasformazione può essere difficile ma è anche un'opportunità per rinascere più forti e più saggi proprio come una fenice che risorge dalle sue ceneri. Il sagittario potrebbe sentirsi ispirato a espandere i propri orizzonti sia fisicamente che mentalmente. Questo segno è noto per il suo spirito avventuroso e la sete di conoscenza. Esplorare nuove culture, imparare nuove lingue o approfondire argomenti di interesse può arricchire la vita in modi inaspettati. È un buon momento per viaggiare, imparare qualcosa di nuovo o semplicemente uscire dalla propria zona di comfort, magari intraprendendo un viaggio avventuroso come fece Marco Polo. Le esperienze di viaggio possono offrire nuove prospettive e ispirazioni, contribuendo a una crescita personale e a una maggiore comprensione del mondo. Il capricorno potrebbe sentirsi spinto a rivalutare le proprie priorità riflettendo su ciò che è veramente importante nella propria vita. Questo potrebbe portare a fare alcuni cambiamenti significativi nella propria vita professionale come un artigiano che affina la sua tecnica con dedizione e passione. È un buon momento per perseguire le proprie passioni, perseguire quei sogni che sono stati messi da parte per troppo tempo e per creare un lavoro che sia allineato con i propri valori, trovando un senso di realizzazione e significato in ciò che si fa ogni giorno. L'acquario, segno protagonista di questa luna piena, potrebbe sentirsi particolarmente ispirato e pieno di energia pronto a intraprendere nuove avventure. È un momento per esprimere la propria individualità, per mostrare al mondo chi si è veramente senza paura di essere giudicati, per connettersi con la propria comunità, trovando supporto e ispirazione nelle persone che ci circondano e per fare la differenza nel mondo, proprio come fece Galileo Galilei con le sue scoperte rivoluzionarie che cambiarono il corso della storia. I pesci potrebbero sentirsi più intuitivi, con una sensibilità accentuata verso le emozioni e i sentimenti degli altri e connessi al proprio mondo interiore, trovando pace e chiarezza attraverso la riflessione e la meditazione. È un buon momento per meditare, per fare lavori creativi che permettano di esprimere la propria anima e il proprio spirito.